E' stato arrestato questa mattina all'alba nella sua abitazione alla periferia di Fano. Un fanese di 36 anni è così finito in manette con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della moglie, una donna umbra di 30 anni dalla quale si stava separando. La donna viveva da alcuni mesi con il figlio in Umbria, ma i primi giorni di maggio è tornata a Fano per riaccompagnare il figlio a casa, visto che ogni tanto trascorreva qualche periodo col padre in città. Proprio mentre attendeva che il ragazzo scendesse dall'appartamento, l'uomo gli si è avvicinato, la presa con forza, fino a portarla nel garage condominiale. Lì, secondo quanto ha denunciato la vittima, si sarebbe scatenata la furia del marito, che prima l'ha picchiata e poi violentata sessualmente in maniera pesante. Oltre a questo, l'ha anche legata col dennastro isolante alle mani, ai piedi e alla bocca per impedirle di urlare. Solo dopo averle raccomandato di non proferire parola con altre persone, l'avrebbe liberata. Arrivata nella cittadina Umbra, però, la donna è andata al pronto soccorso a farsi medicare le ferite e ha raccontato tutto ai medici, facendo scattare il protocollo che si usa nei casi di vittime di abusi. Le indagini sono state avviate immediatamente dagli uomini della polizia Umbra, di concerto con quelli di Fano, al termine delle quali, su ordine del GIP di Pesaro, è stato effettuato l'arresto dagli uomini del commissariato fanese, diretto da Stefano Seretti.